Bravissimo Toyer, forza! No no, viaggia eh! Adesso è una Formula 1? Sì, un sorbo! Adesso mi fa fare un po' di movimento, mi fa fare un po' di corse. C'è il gradino Toyer, bravo! Ecco, accompagnatelo un attimino, quando ci sono i primi ostacoli perché si deve abituare al carrello. Adesso vada là in fondo, signora poi torna indietro. Sì, poi la coda gliela leghiamo bene in alto. Toyer qui, e lui vuole andare fuori. Bravissimo Toyer! Vai veloce, vai veloce, bravissimo! Invece quando si porta dentro, è troppo forte! E' perché si specchia? Si specchia! Ecco, aiutatelo quando c'è l'ostacolo. Perfetto! Chiamatelo! Fai te, Toyer! Bravissimo! Toyer, vieni qui! Vedi che si guarda lo specchio! Forza Toyer, vieni! Toyer! Toyer! Andiamo, vieni! Andiamo, dai! Forza! No, basta con l'erba! Basta mangiare l'erba! Forza Toyer, vieni! Dai! Chiamatelo! No! Toyer! Basta dirgli no! Toyer! No! Ehi! Ma che poi dopo... Ma che dopo vomiti! Basta, dai, andiamo! Dai! Forza! Forza! Sì, 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 ma non è un problema! Aspetta, scriviamo un po'? Trotr! No, no, vai! Dentro! Io andiamo in casa? Grazie! Grazie.